Io devo dire che il ruolo di Biancani, cioè mio, è come ho vissuto, come vivo la parte politica e l'amministrazione, lo sapevano tutti. Io sono un amministratore presente, a questo i cittadini piace, perché sapere che il sindaco è a disposizione e comunque fa una vita normale nella città, è presente all'iniziativa, è presente se viene fermato per la strada, è comunque un sindaco a cui piace vivere la propria città. Adesso sentirmi dire che il sindaco è troppo presente, io penso che siamo veramente in una situazione inspiegabile, cioè io non faccio difficoltà a definirla. Io penso che nelle città qualsiasi cittadino voglia sentire il sindaco presente e il sindaco vicino. Io continuerò a fare il sindaco in questo modo, cioè ad essere vicino a quelli che sono le esigenze, i problemi, le preoccupazioni dei cittadini, ma sapendo anche rilanciare, portando avanti anche progetti, una visione strategica per il futuro, ma ovviamente tutto questo non lo farò ovviamente da solo, ma lo sto facendo insieme alla mia squadra di governo, cioè insieme alla mia giunta, lo voglio fare insieme al Consiglio Comunale e quando parlo insieme al Consiglio Comunale ovviamente mi riferisco sia alla maggioranza e sia all'opposizione e quindi ribadisco, come ho già fatto il primo Consiglio Comunale, quando mi sono insediato, ribadisco la mia volontà di voler collaborare con l'opposizione, ma anche l'opposizione deve dimostrare di voler collaborare con questo nuovo governo comunale.